molto bene buongiorno benvenuti bentornati oggi giornata speciale fuori salone a Baiotti vi faremo vedere qualcosa che non avevamo ancora fatto prima ci sarà la presentazione di un nuovo progetto una nuova base di MedBot Sharing che aprirà brevissimo nel Marina di Loano intanto ne approfitto per presentarmi sono Luca Bosazzi e sono il moderatore di questa video visita vedo che ci sono anche degli stranieri collegati quindi una brevissima introduzione anche in inglese so welcome to this special event in our boat show from ABA Yachting and today we will show you a new a new idea in order to be owner of a boat so the new project from MedBot Sharing this boat the Oceanis 40 is now located in Marina di Loano and we will show how it works. Allora direi che tutto è pronto io comincerei partendo proprio dalla barca pertanto intanto vado ad aprire il collegamento con il nostro mitico Marco in collegamento diretto dal Marina di Loano e ci farà vedere la barca che sarà appunto parte integrante principale del del progetto MedBot Sharing in quel di Marina di Loano. Buongiorno. Buongiorno Marco come stai? Tutto bene? Tutto bene tutto bene. A te l'aria del mare proprio fa fa bene eh? Eh sì 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 ci sto proprio bene. Bene bene. Oggi anche il sole è spuntato per questa diretta quindi benissimo si ha raccolto anche il meteo. Meno male meno male meno male. Allora senti vedo che sei nella nella parte principale del 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 porto lì dove c'è l'area del del parcheggio ci vuoi fare una brevissima panoramica così vediamo anche dove romeggiata la barca? Allora guarda giriamo subito la telecamera eccoci qua allora questo qui è l'area centrale del Marina che a differenza di altri Marina ha questa parte centrale e divide il porto in due quindi troviamo barche sia verso il mare che verso terra. Come potete vedere è anche coperta. Esatto è quella di vita diciamo al carico e scarico quindi si può entrare con una tessera con la sbarra arrivare fino praticamente alla barca. Adesso ci giriamo e andiamo verso la barca. Qui troviamo sotto lo stabile subito comodissimo e vicino i servizi. Per vedere con la mano esatto il dito. Esatto qui abbiamo i vici da uomo e subito dietro all'altra parte vici da donna. Benissimo. Poi si può mettere la macchina. Quindi qua dove c'è il furgone bianco solitamente si mette la macchina per scaricare. Esattamente e poi qui c'è il passaggio che ci porta al pontile. Qui il Marina di Loano ha tutti i pontili con i finger quindi non ci sono le trappe comodissimi. Come vedete fuori c'è un metro d'onda in porto è fermo, è immobile, qui non c'è risacca. Bene. E questo è il pontile dove andiamo a trovare la barca. Vi faccio anche una panoramica dall'altro lato. Eccolo là. Poi in fondo dalla parte di là ci sono i posteggi liberi a rotazione, non sono numerati nel senso che si entra, si trova a posto, si lascia la macchina. C'è sia il posteggio esterno che il posteggio coperto. Ecco vi posso assicurare che sono un gran frequentatore del Marina di Luano. C'è c'è posto per tutti. Ecco anche il quindici di agosto. Facci vedere dove la barca. Ecco qua. La barca è la seconda sulla dritta. Eccola qua. Quindi quando si arriva per scaricare saranno quaranta metri in tutto? Ma sì sì guardate il posto di scarico è lì dietro quindi è veramente comodissima. Si avvicina ai servizi igienici che all'auto per poter caricare e scaricare. Molto bene. Molto bene. La colonnina è con acqua e corrente a consumo. Sì. E quindi anche vicinissima perciò comodissima proprio da non c'è da tirare i cavi in lontananza e tutto. Come potete vedere non c'è bisogno di passarella per salire a bordo? No la barca ne è dotata. Questo c'è Anis Quaranta è dotato di tutti i comfort che si può richiedere a una barca da crociera quindi la passarella è installata perché se uno decide di uscire e non andare in un porto come quello del Marina di Loano la passarella serve quindi è pieghevole e si può aprire e mettere addirittura due posizioni dove poterla mettere. Molto bene. E qui abbiamo il finger quindi la barca è come fosse ormeggiata all'inglese come potete vedere anche la distanza dalla banchina è molto ristretta e corta ci si può anche quando si viene avvicinarla leggermente per agevolare il passaggio perché a differenza delle ormeggi con le trappe qui coi finger la marea sale insieme alla barca il pontile sale insieme con la barca e quindi questa distanza che si fissa rimane per tutto il tempo. Adesso vi faccio vedere intanto che ne approfitto la comodità del finger anche una panoramica sul fianco della barca. ci consente questa cosa diciamo sempre comodissima. Soprattutto non ci si sporca mai le mani con la trappa. No assolutamente assolutamente eccola qua in tutto il suo splendore oggi appunto dicevo il sole meno male si aiuta. Come vedete potete vedere la barca è dotata di bimini, capottina spray hood, ha anche i teli per coprire i crystal e quindi proteggerli per evitare che invecchino o si rovinino anche il lazy bag, il contenitore della randa è nuovo e tutto coperto. Barche dotata di randa tradizionale e di un genoa. Bene, belle queste coperture color grigio che le danno un tocco di modernità. Sì, assolutamente, molto eleganti, è un bel tessuto, un sambrella. Vedete la barca è bella bianca e tutto e troviamo tutto il pozzetto in tech. Poi è anche dotata di due pannelli solari. Ah bene. Sì, è dotata anche di due pannelli solari sul bimini quindi per il mantenimento delle batterie cariche l'ideale è anche poi per fare rada e tutto. Adesso io saliamo a bordo con un passettino, apriamo il passaggio ed eccoci qua. Qui come la prima cosa che troviamo è un pozzetto di generosissime dimensioni, qui abbiamo il charplotter, adesso l'avevo lasciato coperto per il sole ma di ultima generazione è tutto touch, un Axiom 9 di ultimissima generazione, doppia timoneria, timoni, pelle dei timoni in ottimo stato. State cambiate di recente. I comandi del motore sulla dritta, bussole, pilota automatico, conta metri catena, elica di prua. Tutta la barca si gestisce dalla dritta. Abbiamo anche delle comode sottili anche per lo stivaggio, comode cuscinerie sulle sedute del pozzetto e sotto sono in tecca e poi troviamo gavone, gavone sotto. Qui il tavolino ha dei contenitori, contenitore comodo, una lampadina a bajur rimovibile per la sera quando si sta in compagnia e e come potete vedere la copertura del bimini e lo spray hood è completa. Quindi anche in caso di pioggia si riesce a stare comodamente sotto senza lavarsi. Se volete vi faccio fare un giro da prua per vedere gli esterni. Assolutamente, grazie. Poi vi andrò a farvi vedere il suo punto forte che senz'altro è l'interno. Vedete ha un sacco di punti luce quindi dentro dopo vedrete quant'è luminosa. E qua la prua è di generosissime dimensioni, roll a fiocco, ancora delta. Facciamo un bel controcampo da qui. Eccola qua. Bene. C'è anche parecchio spazio per sdraiarsi, stare comodi, non gli manca niente. Come vedete come dicevo prima adesso si vede anche meglio. Lo spray hood e le telerie sono tutte nuove. Vedete a parte l'acqua che purtroppo c'è tanta umidità. Ci sono le gocce ma sono perfettamente trasparenti. Sono nuovi. Veramente eccezionali. E anche con il bimini aperto si riesce a passare tranquillamente in pozzetto. Dotata di tantissimi gavoni anche qui a poppa. Tutte e due le sedute di poppa sono gavoni a tutto fondo. Ecco facciamo vedere. Prima c'era la la seduta centrale chiusa ma come potete vedere questa apertura centrale. Eccola qua. Una volta chiusa abbiamo una panca completa. Esatto per la navigazione. Se la fai vedere di nuovo un attimino aperta che diciamo nella posizione tradizionale quando uno in porto piuttosto che in rada è estremamente comodo perché fai avanti indietro duemila volte. Esatto. Non hai bisogno di passarella niente. Io addirittura la barca qui si potrebbe tenere addirittura venti trenta centimetri ancora più più vicini e veramente anche un bambino riesce a salire a bordo senza bisogno di alcun tipo di aiuto. Assolutamente. Qui poi abbiamo la doccetta con una parte il rubinetto l'altra la doccetta. La barca è anche dotata di presa diretta d'acqua di banchina quindi volendo si può attaccare la canna dell'acqua direttamente alla barca e non usare l'autoclave della barca ma la pressione dell'acqua del porto. Ottimo. Qui vedo un winch elettrico. Sì sulla sinistra un winch elettrico. Tutte le batterie degli stopper tutte le drizze porta scotte comodissimi. Le scotte sono in buono stato come potete vedere. Quelle di sforzo sono state sostituite tutte sono tutte quante in buono stato. Poi abbiamo tambuccio scorrevole e questo bellissime due antine che si possono bloccare per la navigazione perché non sbattano. E soprattutto almeno sai che non sa mai dove mettere la la tagliola la tagliola dove la metto sotto un materasso c'è l'alloggiamento qui invece hanno i loro ricoveri e sono sempre lì. E soprattutto quando volete avere un po' di privacy basta chiudere le antine e chi passa in banchina non vede cosa state facendo sotto. Saliamo pure a bordo Marco grazie mille. Eccoci qua. Allora facciamo un bel controcalpo da qui. Come vedete di net sul lato di dritta. In questo momento il tavolo chiuso perché è richiudibile si può aprire per aumentare lo spazio non è abbattibile e cucina sulla murata di sinistra. Poi abbiamo il tradizionale piano da carteggio sempre a sinistra. Faccio vedere dall'alto che così si vedono meno negli spazi. Un frigorifero a pozzo di generosissime dimensioni veramente molto grande. La cucina. Pagliolio e sedute tutti in ottimo stato. La configurazione della barca è un tre gabini e due bagni quindi direi eccezionale. Qui abbiamo il quadro strumenti. VHF stereo riscaldamento la barca è dotata di riscaldamento Ebersparker quindi nessun problema d'inverno anche per asciugare dall'umido e tutto. E qui un quadro strumenti completi dove ci abbiamo serbatoi dell'acqua, del gasolio, batterie e la gestione di tutta quella che è la barca. Molto bene. Gli oscuranti poi qui è tutta la barca è dotata di tendine che possono scendere per fare da oscuranti. In questo momento io l'ho messa tutte aperte per farvi vedere questa è tutta luce naturale, molto luminosa. Le cucinerie della DINET non sono in tessuto ma sono in similpelle e sono veramente così come le vedete, veramente belle. Poi qui abbiamo questo fantastico tavolo molto bello che ruota rivelando un contenitore sotto e poi semplicemente alzando l'altra metà. Adesso ve lo faccio vedere da lontano, come vedete l'ho fatto con una mano. Ecco abbiamo un tavolo che può ospitare tranquillamente sei persone anche otto. La panca può traslare e quindi creare lo spazio per sedersi. In questo momento è nella posizione più interna in caso di navigazione per dare più libero passaggio. Bene, molto comodo. Lavandino a doppia vasca, qui abbiamo un forno piano cottura a due fuochi con il forno basculante e questo è il frigorifero che vi dicevo che è veramente veramente grande generoso. Molto grande. Con la sua celletta freezer. Assolutamente. Poi andiamo verso prua, andiamo a vedere quella che è la gabina di prua, un letto di generosissime dimensioni. Armadi anche qui luminoso, tutti gli osteriggi sono forniti di oscurante oscurante e zanzariera. Abbiamo anche le zanzariere per le ovlò laterali. Poi qui troviamo il primo bagno che è quello della gabina di prua, il suo lavandino, il suo vicino. Volendo si può anche fare la doccia però non è quello adibito principalmente per la doccia. Il suo armadietto tirando la pendina per salvare quello che sono i mobili è comunque dotato di scarico in sentina per la doccia. Per la doccia, bene. Hai voglia di farci vedere l'armadio che c'è sul lato di sinistra? Sul lato di sinistra, dietro la porta della gabina. Abbiamo questo armadio, mi allontano perché è veramente grande, abbiamo questo armadio dotato di areazione per poter ventilare. Ci sta. Bene. Poi qua sui laterali sono tutti i portoggetti lungo tutta la... Sì, sì. Eccoli qua, sia a destra che a sinistra. Sia a destra che a sinistra, sì, sì. Ah, un'altra cosa molto bella di questo letto, che è quello armatoriale, che sotto c'è la rete ad oghe che tiene sollevato il materasso per permettere circolazione dell'aria e non far sì che ci formi muffa sotto i serbatoi, eh sotto scusate, sotto i materassi. Bene. Ci sono altri spazi di stivaggio sotto il letto di prua? Sotto il letto di prua c'è un c'è un gavone, c'è un gavone qui, ma c'è il serbatoio supplementare dell'acqua e quindi in questa barca non c'è. Ok. Ce n'è uno qui, ce n'è uno un pochino qui, aspetta eh, ma qui abbiamo l'alloggiamento dell'illica di prua. Batteria elica di prua, d'accordo. Esatto. Normalmente abbiamo quelli che sono i gavoni, ma per l'elica di prua e il serbatoio supplementare dell'acqua, in questo, in questa versione no. Ok. Ok, però di netta siamo pieni di stipetti, stipetti e gavoni. Anche sotto le sedute, adesso non possiamo far vedere tutto, però c'è un bel po' di spazio. Poi sul lato di dritta andiamo a vedere la gabbina di dritta, qui il letto matrimoniale di generosissime dimensioni anche qui, molto grande, con il suo armadio. Sì. E anche qui spazi di stivaggio all'interno dei laterali. Sì. Abbiamo due comodissimi spazi. Il letto qua è veramente un matrimoniale vero e soprattutto la gabbina di dritta, abbiamo anche dalla gabbina il bagno ha il doppio accesso, quindi si può entrare sia dalla dinette che dalla gabbina. Adesso io lo faccio vedere da qui perché si vede meglio, sempre vici manuale, lavandino, stipetti con gli specchi e qui abbiamo la doccia separata col plexiglass. Ah, è comoda. Sboglio visto anche il bocchettone del riscaldamento in bagno. Sì, c'è anche il riscaldamento in bagno, cosa veramente, veramente piacevole. Bene. Quindi abbiamo il doppio accesso, questo e questo. Vedo anche tutti i tienti bene hanno la copertura in pelle. Sì, assolutamente, quelli qua. Sia questi sia quelli sulla scala. E questi qui sulla scala, esattamente, questi qua. Poi i gradini sono stati rivestiti in moquette, così è antiscivolo. Come potete vedere. Bella questa, Marco, vi piace. Poi io e te dobbiamo parlare di questa soluzione, nessuna cosa. E qui abbiamo l'altra gabina, l'altra gabina, gemella, sempre col suo armadio e i suoi stipetti. Due letti matrimoniali veri. Anche qui la seduta del piano da carteggio. Abbiamo dei quadretti molto carini con il codice internazionale delle bandiere e i nodi. Bene, bene. E questo è quanto. Hai voglia allora di metterti fuori, così intanto facciamo entrare il nostro, più che ospite d'onore, diciamo il nostro relatore di questa, di questa giornata. Allora, intanto, mentre tu ti sistemi, io vado a cercare il nostro amico Sandro. Attesa che si apra il collegamento. Buongiorno Sandro, come stai? Ciao Luca, buongiorno. Buongiorno, come sei? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Puoi rivedere attraverso la mano di Marco questa barca, questo Scenis 40, è stato veramente un piacere. Mi è venuta voglia di prendere una quota in boot sharing. Ma dai, incredibile, non l'avrei mai detto. Senti, io direi, allora intanto facciamo le presentazioni, chi è Sandro? Sandro è il responsabile di MedBot Sharing e oggi ci racconterà nei dettagli come funziona. Prima di salutare Marco, volevo che Sandro presentasse anche Marco, nel senso che chi sarà Marco per MedBot Sharing? Sarà la persona che si occuperà in loco di tutte le attività di natura logistica della barca. Ho detto bene? Sarà il nostro braccio, sarà il nostro referente appunto nella Marina di Roano. Quindi tutte le persone che decideranno di aderire al programma di MedBot avranno Marco come referente. Molto bene. Io direi a questo punto che possiamo salutare Marco o c'era qualcos'altro che volevi far dire a Marco, Sandro? Ma direi possiamo tranquillamente lasciare libero Marco che è stato già bravissimo nella presentazione della barca. E ormai cintura nera nelle videovisite. Assolutamente sì. D'accordo. Marco intanto ti ti ringrazio come ha detto Sandro chi deciderà di di aderire al questo tipo di programma, di progetto avrà a che fare poi direttamente con con Marco in in loco. Grazie mille Marco come al solito per la tua disponibilità e la tua eh competenza. Non ti chiudo il collegamento ma ti sposto solo nel negli spettatori così che tu possa continuare a a a guardarci. Buona giornata e grazie di tutto Marco. Ok. Ciao ciao. A presto Marco. Un saluto. Ciao ciao. Eccoci qua. Intanto sono arrivati un po' di domande e io ne approfitterei allora per vabbè intanto se vuoi fare tu una una brevissima introduzione Sandro di che cosa stiamo parlando? Sì di che cosa stiamo parlando? Cioè che eh che cos'è Mad Boat Sharing e che programma diciamo propone? Propone un eh il nostro claim no? Eh quello che poi racchiude eh il nostro progetto eh una barca per un anno senza comprarla. Quindi diamo la possibilità ad un numero ristretto di persone di condividere una stessa barca per eh per un anno. Eh quindi Mad Boat si rivolge a tutte quelle persone che almeno una volta nella vita hanno pensato di acquistare una barca. Possono scegliere diciamo il nostro progetto eh anche per fare un po' di esperienza per capire se la barca fa al caso loro e alla loro famiglia o appunto anche un po' per capire che tipo di barca fa al caso loro. Bene. Eh ma guarda io guarda nulla nulla siccome qui sono arrivate un bel po' di domande io te le leggerei te le leggerei in ordine sparso perché magari ci possono aiutare come dire ehm a a a spiegare meglio visto che sono poi le le risposte che vogliamo dare. Allora qui mi scrivono ma quindi come funziona? Io se compro una quota divento proprietario della barca? Allora no il proprietario e il nostro sistema appunto si basa proprio su questo. non non è una multiproprietà eh ma la proprietà della barca è di una persona soltanto che può essere uno degli otto utilizzatori oppure la barca può essere di proprietà della nostra della nostra società. Eh quindi non si va a condividere la proprietà ma si va a condividere il tempo. Eh parlo di condivisione non vorrei che ci fossero fraintendimenti ovviamente ognuno ogni persona che decide di aderire il programma ha un uso esclusivo della barca nei giorni che poi andrà a prenotare per lui e per la famiglia, per gli amici. Quindi i costi di gestione della barca chi chi li sostiene? Quali sono invece i costi che deve sostenere un un membro, un utilizzatore? Guarda funziona così. Eh ogni barca in questo caso appunto l'Oceanis 40 eh che a base lo hanno eh viene divisa in otto quote in otto quote da quarantadue giorni. Ciascun utilizzatore eh versa una quota annuale a un contratto annuale e non si deve occupare a niente di niente. Quindi i tutti i costi di gestione, della manutenzione, eh il posto barca, l'assicurazione, l'antificiativa, tagliando il motore sia dal punto di vista di economico sia dal punto di vista proprio pratico, loro non si devono occupare di niente. Devono soltanto pensare a prenotare i loro giorni attraverso un calendario online che è il nostro software di flotazione e andare a bordo. Ecco eh sai che a me piace molto dire come lo spiegheresti a un un bambino no? L'altro giorno mia figlia mi ha chiesto esattamente papà come funziona? Ha detto hai presente quando prendiamo le macchine eh piuttosto che i monopattini elettrici non dobbiamo né caricare né mettere benzina né gonfiar le gomme né pagare l'assicurazione e altro. Vado prenoto, pago per l'utilizzo e torno a casa. Ovviamente questa cosa qui è organizzata in un modo più strutturato con tutta una serie di prenotazioni però il concetto mi sembra che sia lo stesso. Il concetto è. Pago quella quota lì, tutto il resto non me ne devo occupare io. Esatto. E così. Benissimo. Eh ma posso conoscere anche quelli che sono gli altri utilizzatori della barca? Assolutamente sì. molto spesso capita no? Che eh le persone si eh invitano gli altri anche nelle nelle loro nelle loro uscite oppure si incontrano in un in banchina magari una persona scende, l'altro sale, si possono conoscere. Ci sono persone magari appunto che sono un po' più espansive che invitano gli altri perché li vogliono conoscere in un'uscita in barca a vela eh altri che magari invece sono più riservati e e questo non hanno voglia di farlo. Non c'è niente di male. Quindi libera scelta. Siccome io questa cosa qui l'ho già approfondita con Sandro, attenzione ecco questa cosa qui della condivisione non deve essere travisata. Cioè chi è un orso vuol starsene da solo per i cavoli suoi può non conoscere nessuno e starsene per i cavoli suoi per tutto il periodo ma anche da solo o con un'altra persona con altri otto amici ma se io decidessi comprarmi una quota e starmene da solo tutti i 42 giorni posso stare da solo non incontrare nessuno, non salutare nessuno. Quindi puoi dire libera scelta così come se uno fosse il il vero proprietario di questa di questa marca. Eh poi fondamentalmente è un po' questa l'esperienza che cerchiamo di dare sia nella flessibilità del del nostro software di prenotazione che appunto ti permetti di andare a bordo quando vuoi dopo aver prenotato la barca ovviamente e andare via quando vuoi quindi non hai check in non hai check out fai tutto in maniera autonoma eh e come proprietario di barca puoi prenotare i tuoi giorni con largo anticipo fino ad un anno quindi fino alla fine del tuo contratto e li puoi cancellare e spostare fino a ventiquattro ore prima. Quindi è molto è un sistema che cerca di essere il più vicino possibile all'esperienza da armatore. Da armatore. Senti visto che ti ripeto quello che ci siamo già detti venerdì quando quando abbiamo fatto il nostro incontro. Eh siccome avete già ho saputo che avete già venduto delle delle quote perché mi sembra avete già venduto quattro quote ricordo bene di questa di questa barca. Esatto. Eh qualcuno che ha incominciato a interessarsi ha detto eh ma io arrivo dopo quindi chissà quelli prima di me avranno già occupato tutto luglio tutto agosto le festive tutto quanto e io rimango senza i giorni i giorni buoni. E vogliai raccontarci un po' come come funziona anche il tipo di programmazione. Certo. Eh questa è una domanda classica ma probabilmente la farei anche io fossi dall'altra parte. Eh il calendario il nostro software non è un calendario tradizionale ovviamente ha delle regole. Eh essendo otto le persone che eh condividono la stessa barca per un anno l'anno viene diviso in periodi di otto settimane. Eh il periodo quindi ha un inizio e ha una fine. Eh è ciclico il calendario quindi non tutti gli anni sono gli stessi gli stessi periodi. Eh in ognuno dei periodi ciascun utilizzatore ha a disposizione sette giorni. Cinque giorni tra settimanali, due giorni di weekend. Già questo ti fa capire che non 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 si possono prenotare quattro settimane d'agosto ma avrai diritto ad una settimana tra facciamo un esempio agosto e settembre, un'altra settimana tra giugno e luglio, un'altra settimana tra eh aprile e maggio. Eh i sette giorni possono essere prenotati liberamente quindi si può fare weekend, weekend lungo, si può fare l'uscita giornaliera, si possono fare diciamo la la composizione della prenotazione può essere fatta a totale discrezione del dell'utilizzatore e che ha comunque sempre la garanzia di trovare almeno una settimana in ogni periodo la barca a sua disposizione. Eh le quote sono otto le persone possono essere magari anche anche meno cinque, sei, sette, non è detto che arriviamo sempre a otto e comunque sia le esigenze di otto persone sono otto esigenze diverse quindi ognuno si prenoterà la sua settimana ma vedrete che troverete sempre o la settimana prima o la settimana dopo disponibile per voi. Quindi un'altra una cosa che per esempio io avevo chiesto a Sandro, quei sette giorni non devono per forza di cose essere tutti attaccati, c'è chi deciderà di fare una settimana da lunedì a domenica o da martedì a martedì o da giovedì a giovedì ma anche qualcuno che invece deciderà di fare un weekend da venerdì a lunedì poi un mercoledì e un altro lunedì e martedì perché quindi l'importante è che la somma nel periodo di otto settimane sia sempre uguale a sette, corretto? Esatto, esatto. Oltre a questo utilizzo c'è un utilizzo del last minute, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che se la barca è libera e non è usata da altri, oltre a questo utilizzo ho la possibilità di prenotare la barca con un nell'arco diciamo delle sessanta ore, noi mettiamo sessanta ore, due giorni e mezzo, tutto ciò che trovo disponibile nei due giorni e mezzo nel momento in cui entro sul calendario è prenotabile last minute. Quindi questo mi aumenta sia la flessibilità sia la possibilità di utilizzo della barca. Io per esempio sono a bordo una domenica sera, vedo che lunedì e martedì la barca è libera, posso prenotare lunedì e martedì senza che ne vengano scalati i giorni e senza nessun costo. Ci sono due giorni in più che diventano una sorta di bonus. Piuttosto che sono a casa mia, vengo a sapere che fra due giorni mi hanno dato un giorno di ferio, di permesso, l'azienda è chiusa o non lavoro per un qualsiasi motivo, voglio prendermi una giornata, prenoto l'ultimo momento, mi faccio uno o due giorni se la barca è libera. Ho capito bene? Assolutamente, il giovedì sera banalmente. Il giovedì sera sono a casa, apro il calendario di prenotazione e guardo se il weekend è libero, lo posso prenotare. Certo, molto bene. È necessario essere degli esperti per utilizzare la barca di MadBot? Assolutamente no, anzi, molto spesso capitano persone che non hanno molta esperienza, che hanno appena preso la patente nautica, che MadBot è per loro quindi anche un modo per fare esperienza, perché hai sempre la stessa barca, nello stesso posto barca, quindi è più facile avere, cioè è più facile diciamo progredire, non è tutte le volte devi cambiare barca, una volta un 30, un 35, un 40 e un'altra cosa che facciamo, prima del contratto, prima dell'inizio del contratto, facciamo due uscite di formazione. Le uscite di formazione servono a noi per verificare la persona che sarà da bordo, che ci riporti la barca intera, diciamoci le cose come stanno, ma serve anche agli utenti per andare a colmare alcune lacune. Facciamo quindi gli ormeggi, gli ancoraggi, i travolici, tutto quello che comunque sia all'inizio magari fa comodo conoscere e sapere prima di intraprendere. E questo li faranno direttamente con Marco? E questo li faranno con Marco. D'accordo, Marco in sede, in loco, quindi vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno ed eventualmente anche qualche ripetizione. Eventualmente anche qualche ripetizione, diciamo che noi come all'inizio MadBot dà il supporto, il supporto per raggiungere l'obiettivo di ciascuno, che è quello di essere autonomo in una crociera, tendenzialmente una crociera in famiglia con gli amici. Quindi se due uscite non bastano, seguiranno altre uscite. Certo. Senti, questa invece è una domanda che ti faccio l'altro giorno. Parlavo con un mio amico, il classico amico che di solito viene con me, dai ma vengo in barca con te, gli ho detto ma scusa, mi sei sempre in barca? Perché non ne approfitti? Potresti prendere una quota? Eh ma non so, sai, non me la sentirei da solo, io non ho tanta esperienza, e falo con un amico, lo potrebbe fare eventualmente, si possono fare due famiglie o due amici insieme condividere la quota? Certo, ogni quota può essere divisa con un amico, l'account sul calendario sarà uno solo, avrà una disposizione 42 giorni e i 42 giorni poi se li divideranno. Entrambi i nomi saranno inseriti sul contratto, entrambe le persone saranno, avranno fatto il corso di avviamento. Quindi possono essere banalmente due famiglie, mamma papà con due figli, ma potrebbero anche essere tre coppie. Certo, sì sì. Voi immagino avete visto un po' di tutti i tipi, no? Guarda, forse ancora molte persone non si conoscono, benché è dieci anni che portiamo avanti questo progetto e tra l'altro oltre alla barca di Loano abbiamo anche un'altra base a Maria di Scarlino, quindi in Toscana, davanti al Maria di Fezzano, alla Spezia. Quindi sì, in dieci anni abbiamo visto un po' di tutti i colori. Ex armatori pentiti che hanno venduto la barca per scegliere il nostro modello, persone che prendono la barca da solo, da soli, persone che prendono gruppi di amici di tre persone o quattro persone che dividono la stessa quota. Alte persone che magari scelgono questo modello per fare esperienze e poi dopo passare a una barca usata, perché no? Alla loro barca, persone che scelgono questo modello come scelta definitiva, un modo per avere la barca. Bene. Quindi abbiamo visto di ogni. Senti, combinazione intanto sono arrivate anche altre domande. A proposito di questa cosa qui, quindi se io sono il partecipante, colui che ha preso la quota e magari quel weekend non possa andare, posso mandare un mio amico al posto mio a bordo o deve essere nel contratto, se ho capito bene? La barca è uso esclusivo dei member, cioè non puoi mandare un amico se non è una persona conosciuta e se non è inserito nel contratto. O basta inserirlo nel contratto? Cioè se io sono abituato ad andare sempre in barca col mio amico Enzo, facciamo il contratto io ed Enzo e se non posso andare io va Enzo, anche perché immagino anche per voi sia fondamentale sapere che Enzo deve essere in grado di utilizzare la barca e abbia fra virgolette dimostrato di saperla utilizzare, sia in porto che fuori dal porto. Capito? Molto bene. Voi avete anche altre sedi, no Sandro? Sì, esatto. Voi avete altre sedi con altre con altre barche. Sai che quando si pensa a multiproprietà, uno pensa a multiproprietà perché quella che era tradizionale sugli appartamenti io prendo a quest'anno che ne so vado di qua e l'anno prossimo vado di là. Qui invece come funziona? Ci può essere eventualmente uno scambio? Sì, esatto. Cioè ci può essere uno scambio. Il contratto che noi facciamo è su una barca in un porto e quella sarà la barca di riferimento, cioè quello sarà la tua barca. Diamo un nome a questo membro, a questo membro, a questo utente, lo chiamiamo Filippo. Filippo. Filippo, Filippo usa la barca. Filippo decide di avere appunto una una quota sulla barca, sullo Scenes 40 di Loaco. Quella sarà la sua barca, anche perché se no viene meno l'esperienza da armatore, perché gli armatori di fatto hanno una barca in un porto e è sempre lì. Filippo ha a disposizione 42 giorni, più i last minute a bordo dell'Oceanis 40. Però, se Filippo vuole fare un weekend all'isola d'Elba, noi abbiamo una base a Marina di Scarlino, Forlonica, con altre tre barche, un 31, un 35, un 36. Quindi, Filippo può, secondo disponibilità della barca, accedere alle altre barche presenti a Marina di Scarlino e farsi un weekend ad una tariffa agevolata riservata ai member. Perché, comunque sia una cosa importante che ci tengo a dire che le nostre barche sono ad uso esclusivo delle cinque, sei, sette, massimo otto persone che ogni anno condividono quella barca. Al massimo ci possono essere altri member che vanno a farsi appunto weekend sulle altre barche. Bene. Intanto qui continuano ad arrivare le domande, quindi secondo me oggi andremo ben lunghi, però molto, molto bene. Allora, questa cosa qui ci tengo a sottolinearla perché c'è una grossa differenza siccome fra un'imbarcazione in condivisione e un'imbarcazione da charter. Quello che ha detto Sandro secondo me deve essere percepito molto bene. Senza nulla togliere le imbarcazioni da charter che noi fra l'altro trattiamo, io sono stato utilizzatore, lo sarò ancora in futuro di barca charter, va da sé che l'imbarcazione da charter viene utilizzata tutti gli anni, diciotto, venti, ventidue volte, da ventidue soggetti diversi, di varie nazionalità qualcuno la usa molto bene, qualcuno magari un po' meno. Qui abbiamo una situazione completamente diversa, al massimo ci sono otto utilizzatori che dovendo ritornare su questa barca avranno ovviamente una cura completamente diversa. Io ho detto l'altro giorno a Sandro, ma vi sarà capitato qualcuno che ha dimenticato qualcosa nel frigo, no? Perché quando sali dopo una settimana di una barca charter ne vedi tutti i colori. E ho detto, eh, anche no. Vabbè, rispondi tu perché così rispondi quello che mi hai detto. Beh, considera che quella cosa nel frigo poi ce la ritrovi. Nel senso che ognuno ha un uso della barca e una cura della barca come se fosse la sua barca. Molto spesso mi capita di ricevere telefonate o qualche whatsapp dove magari i nostri utenti mi dicono guarda Sandro ho aggiunto questa cosa, la lascio lì, la lascio lì per tutti, magari metto le presine a forma di stella marina per il forno perché piacciono a mia moglie. Ok, va bene, non c'è nessun problema. Ecco, quindi capita molto più spesso persone che hanno questo tipo di attenzione piuttosto che persone che magari hanno un uso della barca, come dire, meno attento e uso una metafora come magari spesso purtroppo succede in nel charter. Bene. Senti, domanda, se una persona dopo aver fatto questi due giorni di formazione non fosse ancora idonea a portare la barca, che cosa succede? Vi ne facciamo un terzo. Bene, va bene, tu dici prima o poi imparerà. Va bene. Senti, un'altra domanda, esattamente, quando uno arriva a bordo il giovedì sera, il mercoledì mattina o quant'altro, arriva a bordo, ha le proprie chiavi, quindi ricordiamo questa cosa qui, quindi loro hanno la tesserina per entrare nel parcheggio, si apre la sbarra, vanno a scaricare le cose, vanno per parcheggiare la macchina, il parcheggio che c'è sopra o che c'è sotto, hanno le loro chiavi, salgono a bordo, la barca è vuota, quindi a totale disposizione, che cosa trovano a bordo? Sì, che cosa trovano a bordo? Allora, a bordo trovano stoviglie, quindi piatti, bicchieri, pentole, padelli per la cucina. In questo periodo abbiamo cercato di ridurre al minimo la condivisione di cose, ovvero, mi spiego meglio, cuscine e coperte in questo momento non ci sono, quindi ognuno ci deve portare le proprie lenzuola. A bordo trovano anche i prodotti per la pulizia, che quelli lasciamo a bordo per essere usati alla fine della vacanza, però ecco la barca tendenzialmente è abbastanza vuota. Tutte le dotazioni di sicurezza? Tutte le dotazioni di sicurezza, quello sì certo, tutte le dotazioni di sicurezza, l'elettronica, quello che avete visto diciamo nel video con Marco, le dotazioni di sicurezza della barca sicuramente ci sono per quanto riguarda le dotazioni di bordo, soprattutto per la cucina. Domanda pratica. Sale, pepe, zucchero, olio? Sale, pepe, zucchero e olio, quelli rimangono un po' a uso di tutti. C'è una bottiglia d'olio, un barco di sale. Tanto vale lasciarla, benissimo. Posso lasciare le mie lenzuola da qualche parte? Allora, ci siamo, questa è una domanda che ci capita spesso, stiamo riflettendo su mettere questa possibilità attualmente di diciamo di no. Però ci state lavorando? Però ci stiamo lavorando. Alla fine è anche facile, basta fare una borsa per la barca e lasciare tutto lì. E lasciare tutto lì. In caso di problemi alla barca che ne limita o impedisce l'utilizzo, che cosa succede? Allora, in questo caso cerchiamo, ovviamente hai un contratto di un anno, noi siamo tenuti ovviamente a garantire il nostro servizio, allo stesso tempo chiediamo un po' di flessibilità all'utilizzatore di darci la possibilità di sistemare la barca. Ti dico, in dieci anni è capitato veramente rare volte, rarissime volte una, che la barca è stata ferma per più di una settimana. Quindi cerchiamo sempre di intervenire prontamente, anzi gli utenti devono comunicarci le eventuali avarie e a quel punto noi quando loro rientrano cerchiamo di essere pronti per sistemarle. In casi estremi possiamo dare delle barche sostitutive o comunque possiamo allungare il contratto. Questa poi diciamo la formula di compensazione la troviamo sempre. La fantasia non manca e soprattutto tenete conto qua ci mette anche qualcosa di nostro. Vente sapete benissimo, siamo sul canale di Abaiottin, non è così usuale ecco che la nostra azienda stringa delle collaborazioni con qualcun altro. È una cosa che a me è piaciuta tantissimo di Medbot, di Sandro oltre che di Francesco, è proprio la condivisione soprattutto su e le attitudini nei confronti del del cliente. E qui clienti insoddisfatti semplicemente non ce ne devono essere appunto. Cioè la gente deve andare in barca, deve stare bene, si deve divertire e non deve avere problemi. Poi ovviamente capiterà che una volta la lampadina si rompe, si rompe sulla propria imbarcazione così come si rompe sulle barche a charter ma l'idea è quella di dare dei momenti di gioia, no? Di relax ai propri clienti. Pertanto di sicuro troverete in Sandro, in Francesco, ovviamente anche Marco che è un nuovo Abaiottin, delle persone estremamente disponibili e che ragionano con l'idea di farvi stare bene. Ecco. Altra domanda, questa è un po' lunga, immaginando che le ultime di luglio e le prime di agosto siano le più richieste, anche se poi in realtà tu mi hai detto che non è così, si possono prenotare due settimane e quando va live il calendario ci si aspetta una specie di click day? Le slot di otto settimane, quando appaiono online, un anno prima tutti gli slot, oppure ogni otto settimane appare nuovo slot, con quale per avviso? Prima che tu rispondi mi sembra di capire giustamente l'apprensione delle persone che dicono, non è che qui ogni otto settimane bisogna mettersi lì a mezzanotte e cliccare come dei maledetti per comprare, come se fossero i biglietti dei call play. Ecco, spiegaci meglio come funziona. Allora, poi ovviamente tutti gli interessati lasciamo il contatto, se poi c'è bisogno di fare anche una video call dedicata uno a uno per approfondire il calendario, la faccio volentieri. Rispondo a queste domande. Allora, è molto semplice, non c'è click day perché, come dicevo prima, l'anno è diviso in periodi di otto settimane. Ognuno può decidere di entrare a ottobre, a dicembre, a febbraio, ad aprile, quindi magari ci possono essere anche degli ingrassi già di per sé scaglionati. Il calendario ha delle regole, ha dei filtri e impedisce a tutti di mettere i 42 giorni tutti contemporaneamente sul calendario. Questo proprio per evitare che se io entro a maggio trovo tutto bloccato e trovo tutto già scelto dagli altri. No, non sarà così. Io se entro a maggio è ovvio che sarò un po' più penalizzato rispetto alle persone che entrano ad ottobre, che hanno tutta la possibilità di guardarsi la primavera, di conoscere la barca, di prenotare la primavera, di prenotare l'estate. Sì, arriverò un po' in ritardo, ma troverò comunque sempre i miei giorni disponibili sul calendario, che quelli non me li leva nessuno. E vedrò anche che, grazie ai filtri che ha il calendario, vedrò anche che magari subito all'inizio, a maggio magari trovo un po' meno disponibilità, ma già da agosto sarò uguale agli altri. Quindi potrò comunque già avere magari più disponibilità sul calendario delle settimane, tra cui scegliere. Quindi dicevi che ci sono anche dei giorni speciali, cioè un utente non può prendersi Capodanno, Pasqua, Pasquetta 25 aprile, 2 giugno, Ferragosto e primo novembre. Cioè anche lì nei giorni speciali se ne possono scegliere una testa. Esatto. Chiamiamole le super festività, i giorni, cioè i giorni rossi, il calendario ha quindi 42 giorni, attribuisce a ciascun utilizzatore 42 giorni, più una festività. Quindi chi prenota il 25 aprile non potrà prenotare il 2 di giugno, chi prenota il 2 di giugno non potrà prenotare agosto, Ferragosto e così via. Bene. Rispondo anche al discorso dei 15 giorni consecutivi. Allora, si possono fare 15 giorni consecutivi in più modi. Posso prendere l'ultima settimana di un periodo e la prima del periodo successivo e lì posso farmi i miei 15 giorni. Quindi posso prenotare 7 giorni a cavallo fra i due periodi di 8 settimane. Posso chiedere uno scambio, perché magari io ad agosto non ci voglio andare, ma mi fa piacere fare due settimane a luglio. Posso in ultima, come ultima possibilità anche acquistarle, perché se a bordo non ho otto persone, ma rimangono delle quote libere, solo se rimangono delle quote libere, io posso acquistare una settimana aggiuntiva all'interno del periodo. Posso essere, posso essere, oppure se con un altro amico ci troviamo bene e compriamo due quote e andiamo 15 giorni insieme. Assolutamente. Nel senso che poi vedrete che questa cosa qui, a me per esempio piace molto l'idea, poi ognuno di noi ha, come dire, delle conoscenze differenti. Ne parlavo l'altro giorno, questa sarà un'iniziativa molto interessante per coloro che hanno già la barca a Loano e ne hanno le scatole pene di avere a bordo gli amici. Possiamo dire agli amici, comprati la quota, così quando vieni a trovarmi a Loano vai a dormire lì, restiamo comunque amici, ma finalmente ti tolgo dai maroni, vai un po' ad utilizzare i tuoi spazi e magari incominci a prendere un po' di dimestichezza. Quindi come diceva Sandro, sono tante le figure che ben qualcuno che magari vuole cominciare a crescere, rispettare l'esperienza del charter, ma non sente ancora pronto per fare l'armatore al 100%, come diceva Sandro, qualcuno ci è capitato di recente, qualcuno che invece è stato armatore per tanti anni e si è reso conto che poi magari la barca non la utilizzava molto. Allora, grazie, siete molto gentili, ti fanno i complimenti, vediamo anche di qua le domande. da dove posso cominciare? Come si fa per cominciare? Molto facile, basta decidere il momento della partenza, stabiliamo quindi il prossimo ingresso che può essere adesso a ottobre oppure nella prossima rotazione nel mese di dicembre, ci fissiamo le due uscite di formazione magari da qui all'inizio del contratto e poi si parte. Per bloccare una quota è sufficiente una caparra di 1000 euro e dopodiché apertura dell'account nel momento in cui una persona ha le credenziali per l'accesso può già iniziare a fare le sue prenotazioni. Forse non ho risposto a questa domanda, allora le rotazioni io le posso vedere dall'inizio alla fine del mio contratto, quindi posso già vedere tutte le rotazioni che ho tra parentesi acquistato. Bene. Prima di firmare il contratto posso vedere la barca? Assolutamente sì. Abbiamo fatto la, molto spesso mi capita che ormai nel 2022 non ce n'è più neanche bisogno, quindi anche io mi sono un po' dimenticato di questa chiamiamola abitudine, però il prossimo 5 novembre, 5-6 novembre presenteremo proprio l'Oceanis 40 in un open day, quindi quella potrebbe essere un'occasione per venire a vedere la barca e poi decidere di sottoscrivere la quota. Bene. Così come le altre barche magari si possono vedere su appuntamento. Su appuntamento, quindi 5-6 novembre open day al Marina di Luano di Meddose Sharing, pertanto dovete prendere appuntamento. Diciamo che l'occasione del 5-6 novembre è che in un colpo solo potreste avere la possibilità di vedere la barca, salire fisicamente a bordo, vedere la sensazione che vi dà, ma soprattutto parlare con Sandro che vi potrebbe spiegare tutti i dettagli di questa nuova iniziativa. In alternativa, se qualcuno invece la volesse vedere in un'altra data, basta prendere appuntamento, la barca la si può visitare, no? Tanto c'è Marco che la può far vedere. In ogni caso conviene sempre prendere appuntamento con Sandro, così che vi possa dare delle indicazioni e diciamo la visita a bordo diventi una sorta di conferma sulla base delle informazioni che Sandro vi ha dato. Ottima idea, ci sono barche in Toscana, ne avete altri in arrivo per il 20-23? Allora, ci sono barche in Toscana, come accennavo prima abbiamo un 31, 35, 36 a marina di Scarlino, quindi proprio di fronte all'isola d'Elba, tra l'altro un bellissimo marina molto simile al marina di Rovano, sempre con i finger, con un sacco di, diciamo, comfort anche di stessi di marina. Abbiamo una scena di 35 alla Spezia e sull'arrivo di nuove barche ci stiamo ci stiamo lavorando. Bene, stiamo già lavorando anche per l'Adriatico. Stiamo già lavorando anche per l'Adriatico. C'è contento che l'ho detta così, era quello che volevi, no? Assolutamente. Va bene. Mi piacciono le cose che non vengono inaspettate. Ma sì, ma sì, bisogna lasciarsi andare. Allora, direi che abbiamo risposto a tutto. Tanto complimenti, mi fa piacere ecco questa partecipazione. Allora, io terminerei raccontando velocemente ecco quelle che sono le caratteristiche tecniche della barca, anche se poi in realtà eravamo qui per presentare il progetto. Vi ricordo CENIS 40, in questo momento al Marina di Loano, una barca che ha un motore da 40 cavalli della Yammer, elica palebattibili, 360 litri d'acqua, 200 litri di capacità di serbatoio, tre cabine e due bagni, pertanto sono tre elettri matrimoniali che possono ospitare fino a sei persone. La strumentazione della barca è di ultima generazione perché è stata sostituita di recente. La barca anche radar, oltre ad avere il contametri catena e ovviamente vabbè eh pilota automatico eh radio VHF, settantacinque metri di catena con un ancora delta da sedici, elica di prua della Max Power e quattro winci di cui uno elettrico, il salpancore è stato sostituito quest'anno, avete visto che tutte le coperture sono nuove e recenti, ci sono i pannelli solari, eh batterie motore e servizi nuove di quest'anno, riscaldamento dell'Eberspacker, eh radio e stereo e e basta. Quindi devo dire che oltre al progetto la barca ben si presta a un utilizzo sia in porto che in crociera, no Sandro? Sì direi tra l'altro appunto una bellissima barca che può essere usata anche semplicemente per un weekend al mare, no? Una scusa per una scusa in più per andare per andare al mare. Bene. Sandro c'era qualcosa che tu volevi ancora aggiungere prima di chiudere il collegamento? Aspetto telefonate e mail a profusione per dare le informazioni per dare le informazioni molto bene e direi rimani rimani con me chiudiamo il collegamento vi ricordo ne approfitto eh per ricordarvi che eh giovedì abbiamo giovedì e venerdì gli ultimi appuntamenti di questo fuori salone a Baiotti e giovedì vi faremo vedere lo slide quarantadue della Puglia e la presentazione del nuovo arrivo Giannò Sanò di sei quattro dieci sempre dal marina di di Loano una barca nuova in pronta consegna chiuderemo questa eh questo 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 evento con venerdì dove abbiamo in programma non ho il programma davanti a me ma adesso mi viene in mente e ve lo dico adesso mi viene in mente ve lo dico non me lo ricordo mi verrà in mente eh questo è il bello della diretta non me lo sono stampato ed eccoci qua aspettate che adesso ormai lo devo dire eh giusto comet quarantuno quello ha una ruota comet quarantuno qui suggeritori che sono venuti ad aprirmi la porta dell'ufficio direi che per oggi è tutto Sandro grazie mille ci vediamo il cinque novembre in quel di Maria di Loano ti faccio uscire così io saluto tutti. Grazie Luca e grazie a tutti vi aspetto. Ciao caro. Allora buon proseguimento di giornata tutte le informazioni su questa barca e riferimenti di Sandro li trovate eh sul sul sito internet di abaiottin.com dove c'è la scheda della barca altrimenti sul sito progettario di medbot che è medbotsharing.com. Grazie mille per la vostra partecipazione e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.